La promessa anticipazioni. Quale mistero si nasconde dietro il ventaglio di Cruz e la scomparsa di Ramona? Scopriamolo insieme. Jana non ottiene la reazione sperata da Manuel quando gli mostra il ventaglio di Cruz. Si sviluppano nuove teorie sulla scomparsa di Ramona. Ma Jana è fermamente convinta che la donna non sia andata via volontariamente. Intanto, la complicità tra Catalina e Pelayo cresce, tanto che la donna accetta di produrre marmellate su larga scala con lui. Tuttavia, le loro ambizioni finiscono per coinvolgere il povero Lope, che si vede costretto dalla Marchesa a lasciare la cucina per tornare a fare il valletto. Nel frattempo, Lorenzo, stanco della monotonia, annuncia ad Alonso che intende andare al casino di Cordoba, ma il Marchese si oppone, sconvolto dalla recente perdita del fratello. Ximena, stanca delle attenzioni per il suo finto bambino, decide di rivelare la verità a Manuel, ma Abel la convince ad esistere, temendo che Manuel scopra l'inganno. Alonso informa Cruz che Margarita ha ricevuto un risarcimento per l'annullamento del matrimonio. Martina, amareggiata per la rimozione di Lope dalla cucina e addolorata per la morte del padre, si confida con Simona. E proprio quando pensate che le cose non possano complicarsi ulteriormente, Jana decide di mostrare a Curro il ventaglio trovato a casa di Ramona. Curro la frena, ma Jana riesce a convincere Manuel a confrontarsi con Cruz. Nel frattempo, Lorenzo propone di organizzare una partita a poker nei saloni della tenuta, proposta che Cruz e Alonso accettano. A questo punto, vorremmo sapere da voi, cosa ne pensate delle nuove alleanze e degli intrighi in corso? Lasciateci un commento con le vostre opinioni. Candela deve prendere una decisione importante riguardo al matrimonio con Carlos e dopo aver esposto i pro e i contro a Teresa e Maria, Pia sembra decisa ad accettare la proposta di Cruz per salvare il suo posto di governante, pur rinunciando a denunciare Petra. Mentre la tensione aumenta, Lorenzo inizia la partita a poker, ma un ospite inatteso fa la sua comparsa, Margarita. Dopo una serie di colpi di scena, Margarita vince la quota della promessa di Lorenzo, scatenando la furia di Cruz, che ordina a Lorenzo di impedire che sua cognata diventi proprietaria della tenuta. Tra complotti e decisioni difficili, il progetto di Catalina e Pelaio prosegue nonostante le opposizioni della Marchesa. Lope, intanto, si confida con Simona, Mauro e Salvador, temendo di non tornare mai più in cucina. Carlos rivela a Candela che intende trasferirsi a Guion con sua figlia, sperando che lei lo segua. E mentre Ximena passa un pomeriggio a letto, Teresa scopre qualcosa di sconvolgente. Una macchia di sangue. Manuel riferisce a Yana di aver parlato con Cruz riguardo a Ramona, ma di non averle mostrato il ventaglio. Yana insiste affinché lui le parli di nuovo per scoprire la verità. Come andrà a finire? Tornerà l'Ope in cucina? Che ne sarà del progetto di Catalina e Pelaio? Non perdetevi i prossimi episodi e fateci sapere cosa pensate nei commenti.